ma Lelio Tazzi si è appena seduto al pianoforte indossa la cuffia mentre Moriconi si è piazzata un contrabbasso bellissimo dall'età di trent'anni di contrabbasso e podio, podio, prova la batteria podio, provala ecco, podio alla batteria, allora attenzione, ci faranno una fantasia di Jerome Kern è giusto? Jerome Kern fantasia al pianoforte il grande e insuperabile Lelio Tazzi signori, Lelio Tazzi il grande e insuperabile 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 Lelio Tazzi